Buongiorno, sì sì, siamo in fila per gli autografi. Anche se ci sono gli allenamenti, aspettiamo l'uscita. Siete a Di Marro da quanti giorni? Due giorni e resteremo fino alla fine del ritiro. Hai seguito la partita, la prima uscita stagionale del Napoli? Sì, certo, l'abbiamo seguito. Idee su questo nuovo Napoli che sta nascendo? Dobbiamo aspettare, è troppo presto. Possiamo parlare di conferma dello scudetto? È troppo presto, come dici? Troppo presto, aspettiamo le prossime uscite, ci renderemo conto della squadra, anche con il nuovo allenatore. Se la squadra resta questa, la struttura c'è. Ieri abbiamo visto tanti giovani in campo, impressioni positive su qualcuno in particolare? Tanti giovani, sarò di parte, io tifo Antonio Cioffi perché è del mio paese, quindi c'è Ambrosino che è forte ma credo che andrà in prestito se ho capito bene. Qua volevo fare un appunto, se me lo consente. Il settore del giovanile del Napoli è carente, carente come struttura, è carente come aspetto tecnico. Forse il Presidente dovrebbe pensare un attimino in più al settore giovanile perché la campagna è ricca di campioni, ce li portano via le altre società e noi con la primavera retrocediamo. Poi li andiamo ad acquistare all'estero? E poi ce li andiamo ad acquistare all'estero, perché quello è business, quello lo fa il Presidente, noi lo sappiamo che è quello. Però i campioni ce li abbiamo in campagna, soprattutto al sud. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.